Nello stand della C-Media con Andreas Panozzo. Andrea, le novità presentate all'IBC di Amsterdam? Allora, novità tecniche intanto. Abbiamo introdotto numerose nuove funzioni, soprattutto nel MediaCG, che è il nostro motore grafico sia per i loghi che per i progetti grafici, su cui abbiamo investito molte ore di lavoro nell'ultimo periodo. Abbiamo allargato le funzionalità del MediaAsset Management. Quindi, ritornando un attimo indietro, praticamente adesso la vostra soluzione, per la verità non adesso, già da un po' di tempo, consente di avere un'impaginazione completa della messa in onda, non solo quindi la lettura della clip del video memorizzato nello storage, ma anche la possibilità di generare loghi, loghi di trasmissione, loghi di stazione, titoli, crawl. Come dice lo slogan che usiamo nelle nostre brochure, noi cerchiamo di offrire, anzi, si riusciamo ad offrire ai nostri clienti una soluzione turnkey, cioè una soluzione chiave in mano. Fino a qualche tempo fa, il pezzo che mancava era proprio la gestione finale della grafica e dei loghi, e qui abbiamo superito a questa mancanza, aggiungendo questo nuovo modulo, per cui adesso veramente il cliente con la soluzione Cmedia riesce a gestire l'intero workflow, a partire da quando gli arrivano le cassette, per l'ingestio, a quando riceve il segnale dal satellite per l'acquisizione, o a quando gli arrivano i file dai fornitori, a quando proprio lo rimette all'ingresso dell'encoder per la trasmissione verso l'esterno. Questo vuol dire che possiamo anche realizzare con le vostre soluzioni dei canali news multischermo, multinformazione, quindi testuale, video, foto, le classiche informazioni di meteo, le agenzie, nella stessa pagina. Assolutamente, sì, c'è già chi lo sta facendo, per cui all'interno, come dicevi giustamente te, all'interno della stessa pagina una serie di informazioni, e questo può essere il plus per molti clienti, vengono prese da diverse sorgenti, nel senso il cliente che ha la radio, il giornale e la televisione, riesce a combinare la musica della radio con le informazioni che gli arrivano dalla redazione giornalistica e il flusso video in un'unica pagina che può mettere in onda per determinati intervalli di tempo giornaliero, in cui appunto in pagina, con il nostro strumento grafico, queste informazioni, con un'aggiunta ad esempio delle previsioni meteo o delle situazioni di borsa e quant'altro. Proseguiamo con le altre novità che stai avvenendo in canto. Sì, le altre novità che si collegano a questo discorso, che sono appunto legate al media asset management, dove con lo scopo sia di gestire un più ampio portafoglio di formati in ingresso e poi di, magari il termine non è corretto, comunque deliverare questi contenuti a più destinatari, abbiamo introdotto da una parte il nostro transcodificatore, quindi un transcoder che, magari mi ripeto, però normalizza i vari formati che riceviamo all'ingresso dell'emittente in un unico formato che è quello poi che verrà gestito nell'interno dell'emittente e che poi nel momento di ritrasmettere questi contenuti li prepara per il destinatario finale, quindi non so, il formato flash per il web, il formato HD per il canale HD, il formato SD per il canale SD e avanti. Il multiscreen di cui si parla adesso, che va tanto di moda in questa edizione dell'IBC. Parliamo un attimo anche velocemente, in sintesi, dei vari progetti che a questo punto state affrontando anche all'estero. Esatto, esattamente. È importante parlare dell'estero perché ormai la situazione in Italia è abbastanza chiara e la posizione di Simmedia è ormai consolidata. Ormai sono anni che stiamo spingendo per l'estero e già da due o tre anni a questa parte stiamo avendo i primi risultati. Quindi alle installazioni nel Nord Africa e anche Centrafrica, a Mosca, in Russia e nel Medio Oriente, adesso stiamo arrivando anche nel mercato nord europeo. In particolare a Parigi abbiamo fatto un'importantissima installazione presso il gruppo AB, che è uno dei più importanti gruppi privati televisivi francesi, dove abbiamo fornito due canali in HD che vengono preparati in termini di playlist a Parigi, nella sede centrale del cliente, ma trasmessi da Lussemburgo per questioni legali legate alla UE. Quindi anche un trasferimento di asset da Parigi a Lussemburgo, una gestione di main e backup del play-out sempre tra Parigi e Lussemburgo e soprattutto una fortissima integrazione con il loro prodotto di traffic sviluppato all'interno del cliente, che si chiama Carina, che ci ha assorbito anche lì mesi di lavoro. Per cui anche da questo punto di vista l'apertura di C-media a collaborare e non a forzare il cliente a usare al 100% C-media, ma consente al cliente anche di adottare magari moduli che ha già al suo interno o che decide di acquistare per altre strade. E con questo dallo stand della C-media dall'IBC di Amsterdam è tutto, Andrea Spanozza e Antonio Franco per millecanali.it Grazie. 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 Grazie.